Investire oltre la paura, che è quel sentimento che attanaglia gli stomaci, i cuori e i portafogli degli investitori quando dopo un massimo storico dei mercati succede una correzione e le persone iniziano a spaventarsi. Ma noi vediamo le istruzioni antipanico per guadagnare nel lungo periodo. Ben trovati, io sono Giacomo e ogni venerdì alle 18 sono qui in video su YouTube o sul podcast di Spotify per le persone sempre più numerose che ci seguono per darvi delle pillole di educazione finanziaria. Ma io e la mia azienda, segretibancari.com, ci spingiamo oltre e per chi condivide o vuole capire qual è il nostro approccio e avere consigli operativi, strumenti utili, metodi per investire da subito regaliamo una risorsa gratuita, cui potete accedere o andando nel link che trovate in descrizione o fotografando col vostro device il QR code che vedete qui a fianco. Ma oggi entriamo nel vivo dell'argomento, argomento che riguarda sostanzialmente investire nel lungo periodo oltre la paura, la paura che tutti noi come investitori abbiamo. Per fare questo dobbiamo partire da un'analisi storica dei rendimenti. E prima ancora, se vuoi ricevere pillole di educazione finanziaria, tanti altri contenuti, di essere aggiornato sulle novità, iscriviti a questo canale. Circa il 40% di voi segue questi contenuti e non è iscritto, con un clic vi iscrivete, per voi non costa nulla, per noi fa una differenza fondamentale. Vi dicevo, l'analisi della storia è il primo punto da prendere in considerazione. L'analisi dei rendimenti. Ci sono tanti modi per guardare la storia. Ogni tanto escono sul web delle pubblicazioni o anche delle pubblicazioni cartacce con la storia di mercati finanziari, con i rendimenti di vari mercati e così via. Ma se volete farla semplice, potete andare sul sito mci.com.msci e vi scaricate, se andate sui dati storici, la storia in Excel degli indici che vi interessano, che sono indici di Morgan Stanley, quindi molto ampi e diversificati. Pensate che potete arrivare fino al 1969 e avere i dati mensili dell'MC Award, per esempio. Se poi chiedete lo stesso dato in euro, in valuta locale, visto che l'euro nel 69 non c'era, avrete i dati dal 2000 in poi. Però sostanzialmente avete una pletora di numeri su cui fare dei ragionamenti. Guardare la storia non aiuta a prevedere il futuro, perché ci sono dei fenomeni. Il fenomeno della regressione verso la media, per cui a periodi negativi succedono periodi positivi. Però la cosa interessante è che, anche se non c'è una significatività statistica, cioè i dati per poter fare delle previsioni non bastano. Bisognerebbe avere migliaia di anni per poter fare quello. Però iniziate a acquisire sostanzialmente un punto fermo, cioè prendere familiarità col fatto che i mercati periodicamente scendono, di tanto, di poco, in alcuni momenti di più, ma poi risalgono. E la cosa interessante è che le salite sono più forti e più durature delle discese. Quindi iniziare a vedere un po' la storia vi evita di cadere in quelle quattro parole che secondo Templeton erano le più pericolose, questa volta è diverso. Perché vedete che sostanzialmente le cose poi nel tempo si sistemano. Questo succede sempre. La seconda cosa da fare è focalizzarci un attimino sull'S&P 500, che è l'indice più importante al mondo, perché come sappiamo rappresenta l'andamento di 500 azioni statulitensi, dal 1993 al 2023, quindi sostanzialmente 30 anni. E cosa ci dice l'analisi di questo indice? Ci dice tre cose molto importanti. La prima è che il rendimento medio di 30 anni è stato del 10% annuo. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di ritorno a questo numero 10% che molti di voi hanno in mente. Quanto rendono le azioni nel lungo periodo? Beh, se voi pensate al 10%, diciamo che da questo punto di vista non sbagliate. La seconda cosa che ci dice è che se noi prendiamo dei periodi di nove anni, dal 1993 al 2023, in modo rotativo, il rendimento medio è del 14%. Quindi sostanzialmente investire su un mercato sviluppato come può essere quello americano, ma poi non solo, ne parleremo fra pochissimo, quindi vi invito a continuare a seguirmi, effettivamente dà dei risultati. La seconda cosa è che la rischiosità sostanzialmente diminuisce con il passare del tempo, perché se voi andate a vedere la forbice tra rendimento peggiore e rendimento migliore a un anno, direi praticamente gli spaventate, perché può essere un più 30 o un meno 50. Se lo guardate per esempio a 10 anni, avete che il risultato peggiore è stato meno 1%, il risultato migliore è stato più 17%, quindi sostanzialmente la rischiosità si va a ridurre, la rischiosità è intesa proprio come escursione tra il miglior risultato possibile che io posso ottenere e quello peggiore. Se lo guardiamo su 15 anni, beh, le cose cambiano ulteriormente, perché passiamo da un minimo del 4% a un massimo del 14%. Sono ovviamente numeri, non è detto che si riproducano in futuro, però ci fanno capire come sostanzialmente allungando l'orizzonte temporale la rischiosità percepita, la rischiosità effettiva del mercato azionario va a ridursi. E questo è l'altra cosa che ci insegna la storia e che tiene conto un po' di tutto, perché le persone che per esempio oggi hanno della liquidità, persone che sono disorientate, che non sanno bene cosa fare, che dicono aspetto gennaio per investire, come se a gennaio capitasse un qualcosa di particolare, in realtà non capita assolutamente nulla, dimenticano che nel lungo periodo di cose ne sono successe, perché è successa una bolla speculativa nel 2000, attacchi terroristici nel 2001, grande recessione con il crollo di mutui e del valore degli immobili nel 2008, la pandemia nel 2020, parallelamente è arrivata la rivoluzione digitale, sono nate le criptovalute, quindi è successo veramente di tutto, ma i mercati, ancorché frustrati, hanno dimostrato la capacità del salice, che è una pianta molto flessibile, che si piega ma non si spezza, perché poi torna su. E uno potrebbe fermarsi qui, perché nella nostra attività quotidiana di consulenti finanziari, perché BERT Consulting, che è la società che è il brand Segreti Bancari, è una società che fa consulenza indipendente e personalizzata, ogni giorno parla con delle persone che si rivolgono a noi. Alcuni di questi, in maniera forse un pochino presuntuosa, dicono, beh, ma io più o meno so già cosa fare. Ecco, in realtà, la realtà dimostra che non è così, perché i risultati poi raccontano una storia diversa, ma se tu che mi guardi e mi ascolti hai la pazienza del lungo periodo, direi, non ti serve altro. Cioè, quello che ti ho detto fino adesso è sufficiente per farti dormire sonni tranquilli. Dov'è il problema? E poi l'implementazione della strategia. Il problema sta nel fatto che poi, giustamente, le persone in qualche modo deragliano, perché poi in quel lungo periodo, quel vedere, avere quei rendimenti così stabili nel lungo periodo passa attraverso un'instabilità che è intrinseca, endogena ai mercati finanziari. Quindi un ribasso del 10% per capirci è un qualche cosa di assolutamente fisiologico, non è un qualche cosa che cambi sostanzialmente nulla. E poi ci possono essere ovviamente periodi anche negativi prolungati, però sostanzialmente di norma i mercati finanziari non scendono per più di due anni di fila, storicamente parlo. Ovviamente il problema è resistere per 700 lunghi giorni. Mi viene in mente il romanzo di Fenoglio, i 30 giorni, se non ricordo male, della città di Alba, un attacco, un assedio che sembrava lunghissimo durato un mese. Figuriamoci i 700 giorni dell'investitore. Quindi il problema voi capite che è un problema anche e soprattutto di tipo emotivo o psicologico, quindi riuscire poi a reggere l'onda d'urto poi delle fluttuazioni. E adesso vi darò qualche consiglio pratico. Ma dal 1870 al 1920 è venuto fuori da uno studio fatto dal CFI Institute che c'è una correlazione seriale positiva tra i mercati finanziari di 15 paesi. Ovvero nel lungo periodo sostanzialmente esistono dei trend positivi. Questa correlazione seriale o se vogliamo definirla in altri termini per fare un po' i fighi come dicono i giovani un'autocorrelazione significa che sostanzialmente il mercato è influenzato da se stesso. Quindi nel breve periodo succede di tutto e molte volte il mercato è influenzato dalle emozioni dal panico da sentimenti di questo tipo nel lungo periodo è influenzato da se stesso perché ci sono innovazioni tecnologiche perché ci sono aziende che nascono perché ci sono unicorni sconosciuti che entrano fra parte dell'S&P 500 e degli altri indici principali. Quindi il pensare che in qualche modo i trend secolari cioè di lungo periodo siano tutti in crescita ci aiuta in maniera importante e questo vale soprattutto per i mercati maturi perché ovvio che se voi andate a prendere un mercato di nicchia come quello di una cosa a caso coreano non è detto che succeda anche lo stesso Giappone che è un mercato importante è stato per 30 anni in trading range cioè sostanzialmente non ha rivisto i massimi precedenti. Ecco perché vi dicevo l'S&P 500 è un indice importante ma noi possiamo fare di più e scusate se vi ripeto se magari mi seguite da un po' di tempo ma veramente è un a cavallo di battaglia di BERT Consulting SCF e di segreti bancari l'MCA World che non può mancare nei vostri portafogli come la tachipirina quando è andata in vacanza per fare un esempio anche se le vacanze ormai sono finite ma perché è importante in quanto se voi prendete il tempo di scaricarvi dal sito mci.com la serie storica dell'indice fare un po' di analisi su di esso fare grafici calcolare drawdown calcolare un po' la volatilità e i rendimenti medi vedete che sostanzialmente nel lungo periodo l'indice sale sale anche paradosso di paradossi per chi è partito dal picco di una bolla speculativa oggi non siamo l'ho ridetto tante volte in quella situazione lì però chi ha iniziato a investire nel 2000 nell'MCA World dopo 10 anni in realtà ha ripreso i suoi soldi che detto così sembra come dire poca poca roba e lo è però è un po' come dire siamo passati attraverso un oragano e la casa è rimasta intatta è tanta roba ok o magari ci ha rotto i vasi che avevamo sul balcone quindi in una situazione estrema il lungo periodo ha voluto dire non perdere ma quello è un caso che si verifica una volta ogni chissà quanto e dipende ovviamente dal punto di ingresso e allora ecco alcuni consigli pratici il primo consiglio è inserita una quota di azionario globale in tutti i portafogli anche in quelli obbligazionari lo so che è controintuitivo però una quota modesta di azioni anche in un portafoglio prudente diciamo un 20 un 15 un 10 tra un 10 un 20% per tagliare la testa al toro vi aiuta vi aiuta perché se date cercare un po' in rete la frontiera efficiente che è valsa il premio Nobel dell'economia da Ari Markowitz vedete che aggiungere delle azioni che con le obbligazioni sono poco correlate vi fa aumentare i rendimenti e addirittura vi riduce i rischi l'altro discorso è che su un portafoglio prudente se l'orizzonte temporale è 1 o 3 anni potete arrivare a come dicevo un 20% di azioni senza farlo diventare un portafoglio aggressivo ma se il vostro orizzonte temporale è molto più lungo lasciatemi dire 15 o 20 anni un portafoglio prudente può arrivare anche al 50% di azioni qui c'è un altro tema poiché la sostenibilità psicologica di quelle flutuazioni però se è vero tutto quello che abbiamo detto cioè che le azioni sono molto rischiose nel breve periodo perché c'è un'escursione incredibile tra il rendimento da scenario peggiore e quello da scenario migliore mentre questa differenza tende ad assottigliarsi e a spostarsi sempre più in positivo col trascorrere degli anni sicché la probabilità di ottenere un guadagno nullo negativo decade in maniera brusca se il tempo si allunga beh voi capite che anche una persona che è molto prudente può avere una quota azionaria importante nel lungo periodo con questo io spero un po' di avervi delineato un quadro quanto mai attuale perché oggi le persone iniziano a vedere i mercati alti e poi la volatilità ritorna io da un po' di tempo che lo dico chi ci telefona chi ci contatta alle persone che ci scrivono guardate che l'indice VIX che è un indice di volatilità implicita su valori comunque molto bassi subirà anche lui il ritorno in media quindi a periodi di bassa volatilità ci saranno periodi di alta volatilità come i periodi di secca di fiumi si accompagnano purtroppo in questi giorni con delle alluvioni quindi sostanzialmente il mercato è ciclico noi però dobbiamo sapere che la ciclicità del mercato finanziario non è la ciclicità delle funzioni trigonometriche i mercati azionari soprattutto se sviluppati e globali hanno una specie di sinusoide che però tende a zero ma tende a crescere mi fermo qua per non dire delle inesattezze che poi i matematici mi faranno puntualmente notare io vi ringrazio per l'attenzione vi invito a mettere il like se questo video vi è piaciuto e a parlarne con i vostri amici perché è importante che se qualcuno della vostra cerchia può essere interessato o voi pensate che lo sia a tematiche finanziarie oggi basta un click lo mandate questo link su su whatsapp per esempio i vostri amici inizieranno a seguire e a informarsi anche loro grazie a tutti per l'attenzione e buon weekend visita il sito segretibancari.com e scopri i servizi dedicati a chi vuole fare sul serio con i propri investimenti e scopri i servizi e scopri i servizi